Gereviso, un 221esma edizione. Per lo spettacolo segnaliamo l'intervista realizzata con l'attore regista Pino Quartulo, direttore del teatro Cassia Nella Capitale, recensione della pièce Serpe in seno, in scena al Teatro dei Serpi di Roma. Per la televisione un servizio sulla fiction andata in onda con successo su Rai 1 intitolato Ma dove trovi una come me con Gabriella Pession, un articolo sulla fiction La Donna che ritorna con Virna Risa. Per Mondomedia un articolo sul nuovo lancio della campagna Peugeot 5008 che accompagna la proiezione nelle sale del cartone animato in 3D Ten Ten prodotto da Steven Spielberg. Per il cinema la recensione del film campione di incassi Matrimonio a Parigi prodotto da Boldi, quello del film contraddittorio americano Super con un alto tasso di violenza di James Gunn e del cartoon Arietti. Per l'arte un ampio servizio sulla mostra transafricana al Maggi Novecento di piedi di centro Bologna, sulle architetture dipinte in mostra a Madrid e sull'esposizione su Cézanne a Parigi.